No, non in privato, vai su party, impostazioni party, poi vai dove c'è, consenti la condivisione della tua voce e metti consenti sempre. Impostazioni party. Consenti la condivisione della tua voce e metti consenti sempre. Metti consenti sempre, ok. Adesso, youtube studio, mostra l'altro, non è ancora uscita. Ok, adesso vado su youtube per vedere se c'è la mia live, ok. Non dobbiamo aspettare? Non aspetta. Chi è che è andato in live? Biscottino matto, ciao biscottino matto. Mi sa che è Thomas Boschetti, però non ne sono sicura, dalla foto profilo mi sembra lui. Ciao comunque. Bella Sam, bella Dade. Devo mettere la copertina, ma il mio nome su youtube studio non mi è ancora uscito. Copertina. Questa, mi piace. No, sì. Eh? Metti pronto. Hai detto qualcosa a tuo amo. Sì. C'è sentito tutto. Mi ero mutato? No, no nel senso prima. Ah. Prima che ti mutassi. Youtube, vediamo se mi ha messo la copertina. Non è ancora, non me la mette. Prima live Fortnite Tita. Ah, io l'ho messo la copertina. Vabbè, poi niente, io l'ho messa, poi vediamo se me la metterà. Sì, Dade, l'ho visto il tuo video, bello. Fai vedere il pack. Sam, quale pack? Il pack con l'ombre e cose? Comunque dopo, adesso finiamo la parte e poi lo mostro. Oh. Ma posso spegnere adesso? Io chiudo la porta? Sì, puoi spegnere e chiudo la porta. Allora, se si fa così. Il pack ombre e cose. Ciao The King! The King. Sai, era quello là che mi ha insultato alla fine e si è scusato e mi ha commentato in un video. Penso che sia stato uno dei commenti più belli che abbiamo mai letto, che abbiamo ricevuto. Vabbè, quelli americani sono stati strafighi. Sono un po' il player! Ok. Andiamo al lago languido. Lago languido. Ragazzi, se vedete a volte che c'è la schermata blu spessa, è perché vado a leggere i commenti. Adesso. Sì. Ciao, che coglione. L'ho salutato The King. Biscottino matto. No, il papa! Oh, madonna. Santissima, questo qua mi è venuto fuori con la metaglietta. Non mi fa nascondere, ma perché? Non mi faccio entrare nel bagno. Ah, no, torno al lobby. Devo far mostrare il pacco. Ho detto sempre. Non è il pacco amicizia. Quanti commenti? Grazie, The King. Dimmi, da te. Ragazzi, il pacco di oggi, i pacchi di oggi sono questo. I pacchi di oggi. Esami di oggetti. Sono lei. Ombre e spettro. Che bello. Poi, il jolly ombre e spettro. Il caos ombre e spettro. E poi il backpack. E poi il pacchetto ombre e i picconi. Che bello. Ok, poi c'è il pacchetto a 5 euro che io non ho preso. Il pacchetto da 20 che io non posso prendere. Questo è lo shop di oggi. Molto come ogni giorno. È uguale a tutti i giorni. Mettiamo la pappa. Vediamo pronto. E andiamo in partita. The King, sì, anche io volevo prendere i picconi. Ma mi mancano 200 V-Bucks. Sono molto belli, però non lo so. Va bene, dadi. Un giorno facciamo un video insieme. Ok. Io ho mille V-Bucks. Ma li tengo adesso perché voglio prendere Aura. Che è tipo 3 mesi, 4 mesi che la voglio. Un bordello. Non sono ancora riuscito a prenderla. Prendo Aura. E poi tengo V-Bucks che mi darà ancora il pass. E quello di Salva il Mondo per prendere il prossimo pass. Però Aura la devo prendere per forza. Io ho preso Rompighiaccio. È una cosa bellissima. No, è il ghiacciolo. Non Rompighiaccio. Mi piace dire Rompighiaccio. Un ghiacciolo. Un ghiacciolo la pala. Chi se ne frega. No, il ghiacciolo si chiama. Beh, stavo dicendo. E... Prendo anche un nuovo pass. Io voglio Aura soprattutto per il secondo stile perché è qualcosa di... È qualcosa di allucinante il secondo stile. È strabello. Sì. Che coglione. Che coglione. Ragazzi, scrivetemi nei commenti voi che pompa per carica usare in pubblica. Io preferisco pompa ricarica. La cattettiera. Un amico è talmente storico che sarà colpissima solo. Hai ragione The King. È un Pokémon. Guardate raga, sto bugga. Io sparo. Non lo ricarico. Lo butto per terra e ce lo do carico. Ci metti mezzo. Allora, ringrazio l'autista. Come sempre. Anch'io direi di andare a Gatto Grill perché voglio lanciare granate con... Il pompa. Saranno a palanze i geni. Lo so, però io voglio quella lanciare granate e quel pompa lì perché sono un qualcosa di illegale insieme. Ragazzi, se adesso qua in questa parità non leggo subito i commenti è perché... Cioè, non lo faccio apposta ma perché devo essere concentrato per sopravvivere a questa strage. Io scendo subito su una... Io te lo darò sempre al benzinaio comunque. Qua non ho gli obiettivi. Compa di carica. Compa di carica anch'io verde. Però io voglio quello medico. Se non posso aprirlo. Aspetta che le ho i commenti. Bella to friends. Non so se sei Robi o Marco fa niente. Bella comunque. Comunque io un botto di fungo. I marocchini mi sparano. Ho la pistola a oro. Ho la pistola a oro. Non può morire Baudo. No, però... Aspetta che è un po' qua. Ok, mi tenito a verde. Oh, cacca. No, sta pistolina qua è illegale. C'è pure la missione di intedire danni con le pistole. Vado se vuoi il caccio. C'è qua. Io ritengo la pistolina per ora. Il cazzo forte. Gente, dietro. Gente, dietro. Ci sono un messaggio. Mi è stato tirato. Ho la mia di un cammello senza pene. E' tutta colpa dei botto. Ciao, Giovedo. Grazie, Robi, di seguire. Che palli, sti botto. Io odio i botto. Mi muto un attimo, ragazzi. Ok, raga. Mi stanno troppo antipatici sti botto qua di Gatto Grill. Sono bruttissimi e cattivissimi. No, ma che poi... Quel pompa lì... È troppo forte. Lo sanno usare benissimo, quei botto lì. Non è che lo sanno usare, che sono botte, quindi è normale che lo usano bene. Però sì. Oh. Sì, ho visto, Dade. Che brutta cosa. Dade, ti prego, ormennò te resto in live, che mi supporti sempre. Tu sei un grande, Dade. Io ce l'ho mutata. Perché vedo qui il test in là? Nessun leggo i commenti, raga, eh. Purtti un attimo che sto controllando se c'è la copertina della live. Sì, ragazzi. Sì. Sono riuscito a mettere la copertina, wow. Ah, ok, dade allora, buon, 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 buon bagno. Ciao, Dade. Andiamo all'autorità. Oh. Mi senti? Sì, sì. Autorità. No. Quindi oggi non si esce. No, io vado a casa di Barci, oggi non esco. Ok. Massimo, quando siamo a casa di Barci, da Paul Bagnon, a fare un saluto a Carolina. E non sono colpi, sono morto di casa. No, ho preso solo 20 di vita, cosa? Forse, non avessi. Vado, ho l'agente, io. Eh, anche io. Stanno già sparando a Jules. Non devono prenderle loro la Thompson, lì sono venuto qua per Jules. Oh, c'è lo squalo. Ho un tattico. Vieni a me, bravo. Un posto, sono dentro l'autorità. Che casino! Ho trovato una jansha. Shit. Pistolino. Che palle, ragazzi, sto gioco. No, direi basta, c'è così. Basta, c'è tutti i bot. Basta, c'è tutti i bot. Basta, ragazzi. Basta, ragazzi. Basta, ragazzi. Basta, ragazzi. città ma tu sei sopra non so quanto c'è la prossima mi senti baudo? si guarda c'è il coso scarico dai baudo che te li fai tutti e c'è il coso scarico adesso mi avevi preso la schedina? si si ce l'ho preso è carico? no madonna ragazzi non fate caso a questa partita e anche con la prima bella young fire low non c'è più nessuno in live meno male stiamo facendo delle parti dentro mi scagare vabbè vabbè come ho fatto ad aprirlo? ma no sono le munizie che trovi in più nel capo perchè adesso non ti... non hai visto che tutte le casse erano rotte non c'erano neanche i mobili perchè ci avranno magari le granate sopra e le granate sopra l'ho fatto esplodere provato sarebbe figo provarlo e farlo esplodere proprio tutto è vero comunque sarebbe sarebbe bello poter rompere la porta del cavo come il camioncino dei gelati di season 1 o due ma no quanta vita aveva qualcosa lì? boh tantissimo troppa un milione io l'avevo rotto una volta quando ero in scuola con i miei amici no io e Marco una volta eravamo in duo io e Marco si è stati tutto il tempo a rompere il camioncino eh si ci voleva un botto e abbiamo pure vinto eh io non ce l'abbiamo fatta un gatto grill no 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 si non ci sarà nessuno dai in fondo in fondo non c'è nessuno non c'è nessuno così mi offendi lo so sto scherzando però dai si andai a corso no un gatto guarda che se prendiamo il cavo c'è più luce che tutto il lago languido come minimo troviamo due scar o due vampa fucili come minimo ci sarà uno due team ci sarà uno due team ci sarà uno due team c'è uno di gente fra ma cosa uno due team due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci c'è sono cento tu sei un cento oh c'è oh c'è rosario scibetta ciao nabo ciao nabo ciao nabo c'è un altro tattico c'è un altro tattico io non scherzare su queste cose resti banno dal canale baudo questo qua scritti sono un abbo sono solo un bm orfano ah oh queste cose qua non si scherza però eh diciamo sei avessi però mi stanno sparando in 3.000 che vi ho detto quello che guardano queste cose ne ha serrati due fra dine a me ci sono tre ma hanno lei in bot hanno lei in bot ah no ci sono 37 boss ah no li ha serrati pure una in cartona kit aiuto non è possibile ho ucciso kit vieni qua ok vieni fuori 100 fra la porta C'è il tizio Aspetta che prendo tutto Arriva a restarti adesso Non si scherzo queste cose Down Troppo chi si avvita Ho messato Non mi ha schiacciato Non ci credo Allora Ho ammazzato un tizio Che palla Prenditi quelle cose niente Otto cocchi Hanno usato il furgone Non ci credo Il furgone è quello lì che ho ammazzato io È morto Vabbè Sto qua era un down Torno un attimo alla lobby Eh no Non ci si scusa così Rosario scibetta Ciao Ciao Alessorotto Gamer Vabbè Baudo A prendere le cose Per mangiare qua Arrivano 10 minuti Sì 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 Ti ho segnalato comunque Rosario scibetta Sì 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 Ok Ho nascosto i tuoi messaggi Mi dispiace E ti metto pure in time out Puoi pure abandonare la live Tanto Sei down Sei down Lì eccomi Ok Eh ci sono Sì Vai a leggere un attimo la chat Ok Io l'ho nascosto dal canale Io l'ho messo in time out Stai invitando il mio amico? Non baffo niente Vai baudo Metti pronto? Ok Vedete che questo qua è proprio Il mio amico E' un po' Comunque non ci scherzo. Beh, io l'ho nascosto dal canale e l'ho sospesa per 300 secondi. Quindi adesso i suoi commenti non si vedono più. Mi ha detto pure che sono un down. Non è che dicendo queste cose qua mi fai chiudere il canale perché mi demoralizzi, eh? Anzi. È il contrario. Tu viene... Tu viene voglia di continuare. Esatto. Perché così la gente... Così diventerò sempre più bravo per farmi segretare più gente. Down che non sei altro. Anche se sei qualche mio amico che mi sta facendo uno scherzo, non me ne frega niente. Tutte queste cose non si scherza. Problematica. Dove andiamo? Sì. Sì, è perché voglio subito fare qualche chile e poi... Sì, ti ero messo. Sì. Scatto... Non è automatico, lo scatto è quello predefinito. Quello che non devi schiacciare per correre. Comunque sì. Sì. No, metto il vetto verde. vautore verde vautore verde in ogni caso non sarebbe successo sparano sopra noi aiuto non puoi darmi al pompa che lo so fare atterrato valdo a zero colpi di pompa me dai che sceglie tiene una banana prenderci un po per un cino mangiano subito vai pro cino cioè io molto per un cino anche io troppo mi piace bruciare andata a prendere il suo compagno usciti la prima azze è bravo che ho messo questo l'opera da me ho preso un po di roba guarda cosa faccio un compagno per me però rompe cci che no ma già io c'ho ancora una cosa del peperoncino è una fracca fracca oh cci tra scappiamo e non l'ho visto è uscito dal fuoco ma perché mi devi finire mica ti dà la vita nuovo iscritto rosaria scivetta vabbè si è iscritta non ci credo quello che è giudato si è iscritto ma sei morto non si puoi anche di iscriverti dal canale io non voglio la tua iscrizione una persona così non l'accetto danno soltanto fastidio le persone che fanno così grazie a e Baudo? Sei mutato? Eccola Laura, io la voglio, sta schiena In effetti è troppo bella Laura Ringrazio The Bus Slip in the box Andiamo a fattoria franatica Ok, vai Ciao Chiara Chiara Boom Che nome originale Ciao comunque Comunque sono ancora alibito da quella Chiara Scibetta No, non Chiara, come si chiama? Rosaria Rosaria, Rosa Rosaria, beh, Scibetta è comunque Rosaria Oh shit No Fuck Oh, una pistola Non mi ammazza più nessuno Caccia Non ci credo Che verme Eh vabbè, non ho armi Da presto tutte lui Che palle Ci sta però come nome Chiara Chiara Boom A quante armi c'hai te? Pochissimi Sì Io avevo zero armi Avevo solo le esche Ma io Ci tabola Va, la pusciare Quindi Finiamo subito questa partita che È un male, male, male Iniziato di così Un che arma vado Di caccia Col pompa, non di caccia direi Aprete la scheda Dove? Manca poco È fuori Sopra il tetto È fuori Ma tirarti i cittadini No Ah I cittadini Vi scatirà Ok Va Ho un'idea Cosa fai? Hai 30 secondi Vai Se non ricevendola Quitiamo la partita Corri, corri, corri Guarda le mie armi La sotto La grana fa È quello che mi ha ucciso È il vero che mi ha ucciso Ammattato Prego Fermi Ciao Dai In bot Siamo In a casa Il motore Godo 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 Chiara Chiara Boom Chiara Boom Chiara Boom boom, boom, boom get a boom, boom, boom mi prude la spalla baudo ciao ciao gay figlio degli ebrei ma no mi bandono il canale adesso siamo in due chiara io e baudo basta ma chi Chris Kino doveva arrivare adesso Chris Kino e che ho detto che ce ne va adesso ma tu lo inviti e si che lo voglio invitar vuoi giocare le due versus code no comunque siamo in tre versus code vabbè siamo uno versus suo vai la Dani ma stai andai lì vai la Dani ti vanno ti va ti vanno stavo leggendo i commenti tu collaboratore ha tornato grande idea adesso ti metto moderatore appena riesco possiamo andare lì sopra almeno lutiamo ma io poi se non andiamo va bene però sei gay stanno arrivando tutte persone sì ma certo che lo sapevamo già che è ribasso e speravamo anche che tu eri gay sicuro a me non sembra aspetta commentano commentano ciao bro Andrea Vivella bella vilella andrea vilella bella quanta gente ma bella ragazzi mi sento famoso subito il pumpacarica blu god è già il secondo che trovo cosa ho sentito what what monetina blu monetina blu prendimela grande da adesso sento aiuto il tuo video il mio primo video ha fatto tipo 75 aiuto una roba del genere una bomba anche quella dove ha messo ha fatto il monte sotto party girl un po' più americano lo ha documentato no è mia sorella me la presenti? non ce l'ho ce l'ho io ma andiamo a cat e grea andiamo al gatto grillo prendi a fairball flergan si vabbè fairball flergan granitade ci sono ancora raga per mettere le piramidi ci metto tre anni eh ti ho messo nei tasti hai uno cildino hai uno cildino no e non te lo do no ce l'avevi? non ce l'avevo mi hai potuto ma tu ce l'hai la cildo allora allora mi ho attacchi stupidi se no riuscirei a metterli l'80 dove è sto pene? ma chi ti spara al botto una persona? no no lì lì c'è una persona infatti mi stai sparando che ho fatto 86 eh che ho fatto 86 o cosa col caccia? no col pompa ma ci sta aspetta eh bro per ora non ce l'ho ancora le donazioni anche perché non ho niente ha collegato ciao boni col piccaccio hanno 7 ce l'ho anch'io mi dispiace bella boni donazioni per ora ancora niente aspetto di arrivare almeno non erano gli iscritti o di più perché anche perché non ho niente collegato all'account ma fa tanta finta bella mira che ho io col caccia va bene da in real hotel server discord perché io non devo ancora scaricarle tutto io ci vado di assalto anche perché può dai si è passata l'ultimo con il game ancora maletta ancora maletta ma cosa qua che vecchio ha questo ah perché ha il pepe nel culo ha il pepe nel culo no quanta quanta vita gli ho lasciato quel tipo io gli ho lasciato un bo ok bella date sì vilella io mando le richieste bidella vilella non bidella ciao chiarabù aveva il pepe al culo bau 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 torno dal lobby ah perché perché sì c'è croc no chiara sì danny da 5 giorni ho già 110 iscritti perché praticamente avevo fatto tipo 50 iscritti l'anno scorso che avevo l'avevo già aperto l'anno scorso poi ho cancellato tutto e ho ricominciato da 0 e ho fatto 110 iscritti in 5 giorni sì crack online c'è croc 2700 non so che sia chiamalo 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 ok grazie chiara puoi mandare dimmi il tuo id scrivimi il tuo id e pick in chat benvenuto nel servizio di segreteria c'è il servizio di segreteria con il buco non so che non so che Eccomi raga Pulce Di Rocket Mods 2 Rocket Mods 2 Raga scusate il sottofondo ma il mio cane che piange Eh pulce Perché piange? Eh perché non può andare in sala Rocket Mods Non posso dire quello che sembra Si dichiara lui Pulce Cosa piangi? Dai Rossi ti scrivo cosa sembra Aspetta un attimo Arriva Purtroppo non lo posso dire Ciao Ciao Di Vanno Perché non ti ho stirato il murinello? Ciao 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 eccomi raga adesso leggo tutti i commenti sono andato un attimo di lavare in sala però ho visto i messaggini aspetta ah si Dani perché praticamente si comunque puoi giocare Andrea Dani si praticamente perché quella lì ha scritto delle cose che non sto qua a dire e Baudel sa bene cosa ha scritto e quindi l'ho disattivata e niente l'ho risposto comunque si Andrea può giocare se mi ha accettato la richiesta ti invito va Andrea accettami la richiesta ti invito ecco ti sei da sei da xbox bohni adesso giochiamo oh si ma sei da xbox andiamo a cio gioco cio gioco si vai ciao bro voglio fare un attimo ricreativa giusto per riscaldarci un attimo perché ho appena abbiamo appena acceso quindi siamo un po' lo so lo so Baudo lo so Baudo un po' madonna santissimo si ma io sono ancora scioccato da quello che ha scritto Rosaria ragazzi allora se volete ve lo dico cosa ha scritto no poi non hanno messo niente di nuovo si da l'estimate mod praticamente Rosaria all'inizio della live mi ha scritto che sono un hub sono un BM orfano e tutto allora io mi sono arrabbiato e gli ho risposto stavi dicendo? stavi dicendo? l'hai bannato si si l'ho l'ho silenziata e l'ho nascosto dal canale adesso l'ho dato da Dade lo metto in moderatore 114 iscritti madonna ecco ho fatto un po' di iscritti stai ho trovato la tua live a casa sono entrato mi sono iscritto però faccio anche live ah giusto grande si Chiara guarda che One Boy Chiara One Boy è Boni Boni Chiara invece è Chiara Chiara la conosci bene e infatti Dani io all'inizio appena mi ha scritto quella roba lì l'ho silenziata e l'ho bloccata dal canale perché non si scrivono queste cose qua in più soprattutto se lo dice un ragazzo che ha perso il padre è normale che mi offendo si Boni ok allora metto una box PP PVP che io la chiamo PP con che tasto modifichi? no ma non gioco la prima vabbè anche se sei l'Xbox o qualcosa switch? ci sta allora dopo quando andiamo a pubblica ti do il leader a te no no Chiara va bene Chiara Boom ok 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 si Boni giochiamo a Fortnite no Chiara non gioca a Fortnite ahah ahah no scatto Dani per ora non metto ancora ho messo solo The First Mod perché era un mod un mio vecchio mod poi lo conosco da quando siamo piccoli piccoli poi quando quando nella prossima live metto un altro mod ogni live metto un mod in base a quando in base a quanto mi supporta quanto sto live comunque se la prossima live ci sei ti metto mod la prossima live penso di farlo domani o dopo io purtroppo sono qua con te quindi non posso essere tanto tu giochi sempre con la moda mi stanno venendo a pushar tutti mi sto invitando il mio amico aspetta te raga fermi fermi giochi no è un mio amico non lo conoscete è da del boss del canale comunque Dani prossima live metto te mod bici che cosa qua è bravo ma già che la switch con controller no con i padini non è male io non gioco con il padino con la cosiddetta smith con la switch lì o io una mira di un cammello senza pene si dà dal modo rimane non mi devo pure riscaldare perché non riesco manca a gettare fichi ti devi riscaldare sei da forte dopo nicolò ti mando la richiesta io sono sono forte con e te quando tra i anni ogni giorno 6 ore al giorno io sono ancora un botto per parlare totalmente sopravvaldo 30 30 giustamente è finciato dai aranzio che ha chiamato nome ha cambiato nome ok dalle raga scusate se non vi ascolto sempre perché devo leggere un botto di commenti siamo in cinque speck e ho 106 commenti per essere la prima live c'è sì ma io ti faccio cento in più di oggi sono decente che amore non è possibile faccio cento di farlo affidati la mia peggio adesso smesso di spararti perché non volevo sparare per spammare con la r si danni faccio solo 200 non so come e sono freddo si dade si gg comunque io comunque 0 i ping si vabbè io non ho parole ora 0 anch'io io non ho mai avuto prego 0 stabile ora 4 4 di video più no vado 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 io non ti sparo fra ma che è utile a 200 ma c'è solo 200 danni se mi dai il tuo e di ti mando la richiesta ti metto mod nicolai sto bene anch'io grazie ma ti chiami ale si mi chiamo ale sì sì pure chiami filo come vuoi io sto sto cento di lox vabbè io non so mai filo 200 no eh sì eh danni domani mattina dovrei esserci dalle 10 e mezza a 11 se posso giocare comunque se mi scrivi il tuo id su instagram ti mando la richiesta danni su instagram mi chiamo trattino basso lil.reddy trattino basso oppure vai cerchi filox.22 e mi trovi no aspetta filox trattino basso 22 non lo so ah raga fermi che mi mando che mando la richiesta a mio amico cioè che mando la richiesta a nicolò non mi uccidete palla di fuoco 83 3 non come il vice ma usi rivedita rilasciano bro rilassi con gala tina anche tanto cosa usi evita rilascio palla di fuoco a tutte tre non ci trovo unico usi editare modificare rilancia oppure con la conferma scusa così la modifica rilascio la conferma io sì ok aspetta che scrivo in chat lì di instagram mi fa droppare nel foglio non mi fa neanche lanciare aspetta adesso guarda alessandro guarda era questo cambio di il mio id instagram vai età madonna per essere da switch non dare elizioni lascio né male aiutate il teatro e lascio questo quando riesco a fare beh adesso moriamo tutti insieme ok 200 danni adesso su twitch devo ancora decidere perché questa quella mia prima live in generale l'ho fatto su youtube essendo che ho da tutti iscritti poi magari si dice mi sposterò più avanti quando avrò già più iscritti quasi youtube in modo che così so di avere da più follower su twitch però penso appunto io penso di restare si vitu per un bel po di venire sempre cercare me filo che conosco ma come giochi si va bene non è giusto però io ti faccio cento fai luce fai luce danni quello lì è il mio idg è il mio instagram e in the invio descrizione del mio profilo instagram trovi anche tutti gli altri miei iscriviti c'è tutti i miei altri due profili quindi filox e alibi mix no no ma perché 20 che giocata t'ha fatto si sono spenti tutti non commenta più nessuno ok raga cristo accendendo provo a rinvitare il mio amico perché non è entrato ormai siamo in troppo no no dobbiamo dire che non si faccia in creativa niente no mi diverte mi diverte di più in creativa si va bene no ho distrutto tra tranquillo cante in già che john è mio amico bella giù sono in live su youtube 117 commenti ho avuto uno mi voleva pure donare ma non ho il link non ce l'ho ancora le cose delle donazioni poi questo paolo che ho conosciuto in live ed è bravo è da switch ed è fortissimo araga anche gioia da switch adesso appena accende pure la clinica un po lui un po di critica non è successo il nostro amico infatti l'invito adesso facciamo un altro poi c'è l'ultimo round e poi andiamo in build ma siamo in 5 io te e rock zonor si zonor si no 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 neanche mai più c'è il tac mettiamo tipo la tilted è buono lo so no eccolo qui mi stiamo dopo 30 anni che lo chiamiamo ce l'ha fatta già ci sei raga ma già c'è ancora ma sì che ci sei giù non ti sento si basso però ora cosa va a diminuire un po' laudio del gioco che stia fatti sonora abbassiamo un po' così va bene ok ok raga è andato al centro facciamo la zona quando lui va poi andiamo in 35 spettatori raga come si fa a risultare la schermata 118 spettatori raga no no raga è buggato no raga no non scherziamo eh non scherziamo no è impossibile raga commentate commentate voglio vedere se è vero non ci credo fra chi è che ha eseguito il raid potete mettere la mappa che mi sto bloccando il gioco 118 spettatori è vero raga mettete tutti i like e commentate vadoo c'ho un FPS fra 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 no raga li torno al centro torno al centro ha messo l'adesso al centro ha messo l'adesso al venito qui fra ma what 118 spettatori non ci credo ci credo no raga andiamo qui andiamo nella zette mai avuti costanti quanti spettatori no raga commentate tu ti lascia tutti i like tutti i like gli ha mandati danny è uno di twitch ha detto what no danny dimmi subito come ti chiami su twitch grazie bro dimmi come ti chiami su twitch ti vengo subito a followare scrivimelo su instagram gioia entra nella desert anche te kree anche solo qui cosa entrato in questa mappa in questa mappa gioia dove sei te gioia dove siete noi muoviti che schiena hai vuole mappa ma quanti spettatori sono famoso zio non ci credo gioia te che schiena hai no dai ma che schifo di armi ho gioia che schiena usando grazie dani grazie dani dimmi che prego danni dimmi come ti chiami sui twitch che ti vengo subito a seguire grande preso siamo su un grande bro grande bro che è lì che ci sono i più sopra sono io quello più sopra sono io con il pietà 6 sono protetto ci hanno schifoso grazie dani grazie a lasciare tutti i like e commentata per questa live daniela stimato subito moderatore grazie però tu sei guadagnato e finiti ma come è una che build abbiamo fatto dai non ti faccio vedere questo qua è 3 nooo chi era questo? sei già qui? si ah non sei stato te salvo ma ho scritto non so se sai che esistono app per buttare gli spect e chi è che ha messo così tanto spectro allora? io non li ho messi e da niente che non li ha non so perché ha così tanto spectro 154 spettatori raga anche si sono bot non fa niente e raga io non li ho botati non so neanche come si fa non credo che rossi sappia come fare non è la cosa perché quasi tanti no no schifoso non ciò fa sono carico oggi raga carichissima 186 spettatori gio ci sei? siiii 115 spettatori ragazza stanno scendendo no io tendo no io questo po' non posso no io questo po' stanno scendendo raga 112 112 ma sono io le armi più brutte mai messe su forma che c'è quello spazio non so che mira oh ma perché dovete venire tutti contro me ho la mira da cricetta con l'attestino è vero è vero è vero è vero è vero è vero il due caricature un pochino vero ooooh ooooh clip scusa se la clip ma non sono una bella ciocchinata ah raga 146 spettatori 146 spettatori ho scopo a fare l'edit già sei morto io ho marcato però siamo soltanto l e 2 editi col pad quindi se io con r1 cioè con l1 te l'ho messo io io con l'analogico e anche io ritavo con l1 prima si si lo so io con quello per muovermi è anche lo usavo voglio coltato mi trovo la dio un tanto e io sono smiratissimi smiratissima ragazzo 116 spect no non sono riuscita raga commentate ma vedere se c'è qualcuno ancora vabbè fa niente un pochettino quanti spector anche se sono buttati fa niente raga intanto sono tanti tanto per essere la prima volta esatto certo vabbè anche tutti quelli che togliendo ai portati ne avevo già un bot di spettatori che commenta 40 secondo me lo schifo e vabbè arriva l'altro arriva cristian si da 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 dei prima eravamo a 180 spettatori da dei 180 si bravo si questo del chaplano no ma non mi fa proprio male bello 76 spettatori sono scalati anche ora da io vado la scuola che avevamo 180 mette per mila quanto sono forte entro tempo tempo un paro per me non è un paro per il resto non è un paro per il risultato non è un paro per il risultato entro entro bravo c'è il combat il combat è il combat più forte è anche il segretto per vincere sempre no non mi metti a edit il tiro lì una puntata danny ciao giovanni balestreri ora sette spettatori raga ora 7 danny dimmi come ti chiami scrivimi su instagram che ti che ti accetto o sì lo spa il combattore io li bisciotto che non lo sopporto anche io di scioccia si jack faccio corte da zonors quindi chi è che c'è lì sarà croc dai ma c'è di scopo oggi però basta non ci credo tutti contro in me siete e se non tu lo ho fatto via tutti contro in me non mi ha cerchi nato manco fosse un pro allora dove commozione lo stesso ma c'è chi nato col padre io si danni un altro e da te sai cosa fare con gli che mi racconti 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 che lo fai a 300 secondi 0 9 ascolto autoblue 0 3 autoblue 0 9 10 l'ho fra il fuoco non ce l'ho ah non hai più regni eh vabbè niente ho sbirato tutto col combo eh ma il combo è il combo eh ma lui ho sbirato tutto quindi potete uscire però ho sbirato tutto anche io lo so leo fox lo so ciao nicolino c'è ancora cristiano raga e sì perché sono fortissimi io ci sei leva stefano ha provato il nostro si Dani hai ragione posso fare il mod Mati allora per ora di moda ho messo solo Davide the first ogni live metto un mod nuovo prossimo la live penso di mettere come mod Dani tivano perché da tipo mezz'ora che dentro la live e continua a fare il bravo è quello che mi sta supportando di più insieme a Dada e poi vedremo che stava borrendo i colori via rio su epic mi chiamo come vedi in alto a sinistra uguale t2 filo su t2 nello stesso modo io non sono mai stato un moderatore di un canale mai stato no io sono no io sono tu è stato bravissimo anche te no ho che schifo mi sto sparando no epic mi chiamo t2 il santino basso filo ho stato una bassa venti due tu ti ho trovato ciao Dada ciao Dada sportiva qui alla micro non ci credo oh Tiox oh per colpa dello dell'analogico tutti i nuovi sono cadute giù della non è male che era controllabile esatto era stato un bot ah iti vabbè non ha neanche non c'è neanche buildato però magari guarda dove è io ti fai un box ma se sono in mezzo alla safe mi lasi no per perdere due di vita e due di morire però è la testa di otto e non due si si danni già prima live esatto sei spettatori anche io nicolino gioco da ps4 no matti non venire a spaccarci in creative you got this daniel 3d due punti you got this ok te la mando ok ci spacca si prima erano 180 spettatori però penso siano stati bottati vorrei anche evitare di essere sempre ma dai manda l'amicizia a nicolino ho tattico bianca non dire a questo pompa che è veramente no you got this non trovata zia da apri si è interessata per trio trio arena o comunque se arena penso di sì che adesso sono molto freddo ma quanti punti hai tu in arena eh 600 non la gioco molto vabbè io sono 2000 vabbè io non la gioco molto non la gioco molto non ho nessuno con cui fare trio boh a me va bene nicolino io gioco da season 1 capitolo 1 zia davidi a me va bene trio per tornei arena basta che mi dai mi scrivi su instagram dopo scrivo ancora c'è il mio nome instagram nella descrizione del canale scrivimi lì su instagram ovviamente mi vengono a trattare in 3000 dove la cola allora zia adesso ok dai dopo te lo mando allora adesso scrivi il tuo idea zia che si mangia amicizia ma che cacchio è che io smiro sempre tu mi prendi con tutti colpi come fai io non capisco c'è già sta ancora vivo o 10 parola raga siamo una battaglia da te vediamo che si fa proprio di più crash a b ok faccio manino non sei crash a b te l'ho mandata zia grazie nicolino bk danni spro bk di danni spro mandagliela grande zia bk di danni a bk di danni ok danni tranquillo ok danni tranquillo zia poi accettami a richiesta nooo se lucecchino a via veniva bene lì ok nicolino ok ciao ragazzi ragazzi voglio fare squad no cambiamo mappa vai raga siamo in 4 cambiamo mappa io odio creativo ok zia allora inizio poi quando riesco faccio mi arrivo a 1500 punti ragazzi andate al centro che cambiamo mappa grazie messa di avermi dato nel noob giù mette una mappa ho fatto questa guada ok messa me la mandi i di holly holly giuri ok holly giuri non trovato e danni te l'ho già mandata l'amicizia ma non diceva non ti trovo raga venite qua ah io non entro dai baudo stai in là vieni dai in questa raga entrate facciamo ancora un pochino di creativa poi poi amy squad bk dani non avviate raga che provo a rimandare l'amicizia a dani bk d dani is avviate che io non posso dai non ti trovo e danni ma anche se è diverso non cambia niente perché poi quando mandi l'id epic te lo mette a posto lui e ti trova comunque comunque danni io il mio id di epic è t2 trattino basso filo strattino basso 5 22 tutto maiuscolo il player adesso adesso mi ha rimandatole ancora che non ha neanche avuto ok dai chiedimelo a te ma raga c'è un c'è un tattico vabbè con la sfiga che ho io spawno sempre in basso insieme a proprio io ho dio per questo scusa scusa non ti ho fatto uno di danno ti ho preso 8 volte in bocca holy shit man oh ma perché continua a girarsi eccolo lì sono morto fra o forse no allora se vuoi ci dà un indizio è in questa mappa se vuoi ci dà un indizio ora si muove no schifoso non mi ha sparato il problema il progetto danni chiedimenti all'amicizia bravo comunque ho fatto 250 non so come non sei muovo danni se non ti ricordi lo vedi lì in alto in alto a sinistra miracolo si è spugnato in alto madonna mia raga si sta baggando la mappa non so come probabilmente adesso mi esplode la play probabilmente ma grazie prego croc l'ho fatto apposto soltanto per te 100 paudo sai che vuole vero no 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 stuposo infami vabbè vai danni appena me l'hai mandata scrivimi in chat che te lo accetto bella karim ancora raga non chillatemi provo a rimandare l'amicizia danni raga non chillatemi punto danni 30 40 70 no danni vedi non ti trova bella karim danni non te la trovo l'amicizia no punto karim quanto non muoio mandrame c'è karim no ho le scale baggate vabbè te l'ho mandata karim a ruta 1893 ciao devi andare ora si deve andare raga ci sono scusate devi andare a piangere no no sto salutando un amico pulce è il mio cane è il mio cane ragazzi si però non è che sono troppo schillatissimo però ci sono ci sono ci sono spazionate raga è molto ti vado dai non mi fa il double hit dai raga ho appena cambiato pure la sensazione pulce basta ha rotto 1893 adesso invito tutti ragazzi calmini stai qua pulce non puoi sedersi a letto ecco si fa invito nel gruppo pulce che legno ho preso sui denti a niente carin tranquillo e croc è morto me lo meritavo proprio da 200 zia da domani non so se ci sono comunque io te la manca amicizia tu accettamela se mi vedi online invitami pulce basta piangere dai adesso arriva la mamma adesso arriva la mamma scusate raga parim si si carin si si carin se mi ci puoi ballare tranquillo faccio il cigare dai almeno me la mamma me la mandi si aspetta a ruta 1983 si non so se la manda nicolino a ruta 1983 raga anche il latino devo andare un'altra amicizia a ruta 1908 non ci ho trovato nicolino si non vuole far cadere non vuole toccare il microfono puoi parlare se la faccio più quando mi killate mi killate senza ma dai sai ah la madonna eh 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 sì cito sei scarto eh ragazzi mi vado 30 sai quanti bravo Karim in che senso Ziad e lascialo di qua bravo Karim Karim è il microfono pulce pulce stai un po' citta è maschio baido scimmo che già hai rinfilato ma e vince così fra fra io ho fatto cadere c'è vieni e lui ha fatto cadere me vieni qua dai vieni c'è tu hai fatto cadere raga verso le 3 chiudo la live verso le 3 198 commenti ragazzi dai non mi amico ma come si sta con la mia vera che scuola ragazzo ma c'è sto scusoso ma basta farmi cadere tutti vieni a uccidermi soltanto così parla lui parla lui sì tutte le volte che ti ho fatto cadere rinni e mi fa cadere me cosa vuoi da me oh nicolai no ha fatto oggi sette mesi pulce fatto oggi sette mesi si sente come se fosse un lombrico schiacciato carin po' attaccare il microfono oh dai mi faccio uccidere e quando sei morto l'hai detto no non lo ho detto quando sei morto mi sono fermato non lo ho ok tranquillo carin c'è 80 60 non ci credo 200 no ma adesso non facciamo facciamo un 30 con mitra letta che guarda in davanti non lo vede no 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 mamma non c'è basta sono morto fra no ma ma si zia do il 2 fa bello nicolino nasce di un mese ma basta hai rossi meritamente le panni rossi madonna sempre da dietro mi prendi guarda non ti ho più da dietro oh no vado non è che se continuano a lucidere devi lamentarti eh ma guarda ci sono allenati sono allenati ci sono allenati ci sono allenati tanto troppo poverino l'abbiamo l'esplodio l'avete fatto esplodere troppo 20 colpi in mitra ah no scherzavo 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 ne hai i cento quad non mi spara il pompa come king bello il nome si si ha do 2 fa te l'ha già detto due volte 50 in bocca con lo spas ok danny bella raga facciamo scuote si ha parlato c'è morto grande fra quanta vita vedi 10 di vita avevi tipo 26 ehi pulce basta piangere giocci sei dove vai ma c'è ma c'è sì non ti sentivo più ma c'è andare a fare scuote no vado troppo chiudere niente appunto andiamo fare scuote almeno ma sì ma io che parla che sei però baudo una volta che facciano live non facciamo pubblica dai da un'ora e mezza che facciamo che vabbè cosa vuol dire un giorno che facciano live fighi oh shit io la odio perché non sai giocare cioè si sei bravo a giocare però no ah sia addio competitivo non l'ho mai iniziato però mi piacerebbe un botto entrare nel mondo competitive io mi lascio uccidere da croc shit croc se vieni giù pulce no dai non ho l'einbot è solo la metraglietta che con la sensibilità bassa è un po illegale basta pulce ragazzi io ancora 20 minuti e chiudo la live quindi quello che avete da dire dita ora andiamo a fare sconto no ma non vuoi girare chat non mi ha messo il pavimento sotto faccio davvero cagare ok zia da me va benissimo perché perché almeno magari può avere un'opportunità di vincere anche se non credo però almeno tanto di carino carino fanno vincere ti prego fanno vincere crack vincere un uomo di cuore sì dani domani alle 11 dovrei giocare pomeriggio invece gioco con zia se può al pomeriggio però dalle tipo una e mezza due fino alle tre venti perché poi alle tre mette esco quindi al pomeriggio dalle due alle tre posso giocare consigliata alla mattina di città da croc ragà fermi ne ho far uccidere dai croc e anche venti secondi dai come le sue sposti in bocca riuscire a resiste neanche il tempo di farmi uccidere ma voglio vedere se manca di città mi credo il figlio no scusa carini no quanta vita avevi esatto c'è 200 in vita non capisco è appunto è saltato è ha saltato il turismo va bene non si è lanciato si è buttato io io ho fatto giù dai croc vieni qua dove sei il gioco giù giù sta sempre giù per terra dai no muoviti 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 vai muoviti 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 carini perché fai vincere croc tra di essere un uomo di cuore di fare onorare un po croc che poverino non ancora non è ancora fatto una vittoria seria tutti i morti di la caduta quando si ma da 110 t'ho fatto di prendevo meglio a domani sia grazie dell'istruzione da questo live ha fatto tipo 15 iscritti molto male magari fare almeno 20 dovevo farci una penitenza faccio ammazzare fra i croc dai e di fame l'ora 40 ma fatto ma è iniziato nelle palle c'è lì sotto grazie carina l'iscrizione la prima bocca di valente è un po' ambigua si lo so è un po' ambigua la sito ok rai andati tutti a seguire nicolò nicolino nicolò bizzar un povino su youtube che sia la sponsor essendo che mi sta supportando un sacco in questa live però non ho preso danno però che non farmi cadere fermo fermo però fermo non farmi cadere tanto che ti faccio vincere ti va regalava il palco battaglia se non lo sparato esatto oramai veramente te lo voleva regalare eravamo in live questa mattina io e lui non è vero lo so scusando stanno soltanto giocando e mi dice voglio fare il regalo a croc voglio regalarmi il palo battaglia e invece soltanto se nella nella zone non mi spara invece poi hai sparato perché noi sapevamo già che andava a finire così che andavamo in giorno ciao vado ok nicolino raga io un quarto d'ora e spengo e chiude la live io mi ringrazio da ora per tutto il supporto in questa live e dopo tra un quarto d'ora vi saluto bene quindi un'altra adesso che mi conta avanti a te stocchi erano tanto molto croc vini giu come faccia ammazzata tranquillo si fa ammazzare croc voglio ammazzare che rifatte baudo fatti ammazzare poi mi faccio ammazzare io dai muoviti i rossi c'è non c'è troppo troppo cattrici ma cosa c'entra è quello di colino carin ci sta ancora già ci sta ancora no ragazzo non c'è più abbandonato tipo 3 secondi fa vado a sapere una novità cosa però una novità no ho fatto un caldo però non è ammazzato lui però te l'ho massacrato però la novità adesso perdi a settimana di un film si fanno uscire di adesso io 14 nicolino vai baudo tecnici ma non so ok karim quando siamo al trentesimo round chiudere live certo ci stiamo facendo più quelli di quelli di primo saranno i centinaio ma donna quando si è anche creativo oggi ma quanta vitali no no sono io mi ha fatto cadere con i nostri freddo federica si è scritto il tuo canale grazie federica 233 commenti stato epico quando avevo 181 scettatori fai lasciati ammazzare se io sono nabbo come croc perché è bellissima ti fai ammazzare nabbo grazie comunque non è vero non continuano bella batulce ma sembrava un bambino non pulce perché bella nicolino nei primi 10 secondi non sparate a nessuno ok devo dire una cosa seriamente aspettate da quando dico io non sparate a nessuno devo dire una cosa no quindi mi butto giù addio addio amici addio io ho preso la chiave perché tolto il pavimento la stilata madonna 800 mi sono cercato in mano no paulo bello quindi sembrando che non siamo vinto ancora tre round due round solo per tanti su 30 conto chiudo capi schifo giocadini deve morire almeno abbiamo un pro in meno come volete dobbiamo ammazzare grazie sei lo schifo da allora ma basta non è pulce possibile sia pulce che piante possibile c'è una bambina la colpa anche parlare andrea pilella io adesso chiudo la live arriviamo faccio ancora gli ultimi due round e chiudo la live perché è già da un botto che gioco e poi devo andare a casa il mio amico quindi ragazzi ultimi due round e chiudo e carine non posso arrivare fino a 35 perché non do la casa di un amico basta però sperarmi sempre a me o meno mai che sto guardando filo che su se no la partita di troppo e noi oggi ragazzi faccio l'ultimo round e se lo vinco sono anche a venti round 20 e chiudo la live l'antica non devo essere quanto vincerà sicuramente altro rock vieni giù non c'è subito non c'è subito come ci vediamo non c'è carima guarda sì ma almeno lasciami giocare grazie carino mamma adesso faccio questo round spengo i ragazzi live di oggi è stata fantastica grazie del supporto 240 commenti ragazzi ci vediamo nella prossima live ciao ragazzi